Vecchio ti smonto il power bank che non te ne accorgi, lo smetti di filmare, oppure gli esplode la goblok Cazzo ma sembra Pripyat, ma è vero Foto piedi ricco Ciao a tutti ragazzi io sono Hornet e benvenuti in questo nuovo gameplay Come avrete visto dalle storie su Instagram di praticamente tutta la community di Youtube Italia La settimana scorsa c'è stato presso il parco acquatico della ASD Save di Padova Un raduno di tutti gli Youtuber di software italiani Questo raduno è stato organizzato appunto da Oldman che abbiamo qui davanti Che ringraziamo tutti quanti per l'estrema disponibilità nell'organizzare questo evento E ovviamente da tutta la community che vedete in questo momento prepararsi per l'inizio della partita Eravamo presenti praticamente tutti e quindi non starò a dilungarmi con la lista di ogni presente Che lascerò in descrizione ovviamente con tutti i tag alle varie pagine Instagram Tornando però alla giocata, è una giocata prolungata di 4 ore senza nessun tipo di stop Con un medico per squadra che può realizzare un punto medico avanzato per curare le ferite ai compagni di squadra Ogni giocatore avrà 2 ferite a disposizione prima di dover tornare al PMA della propria squadra E l'obiettivo è quello di recuperare tutte le bombole che vedrete tra poco in giro per il campo E di portarle al laboratorio dove solo i due scienziati che girano costantemente per il campo Potranno verificare se sono funzionanti o no In tutto il campo ci saranno solamente 3 bombole funzionanti E se una fazione riuscirà a portare tutte e 3 le bombole funzionanti al laboratorio Avrà vinto la partita Ragazzi ho tenuto solo le parti più interessanti di queste 4 ore di giocata prolungata Quindi ci saranno parecchi tagli per prendere le parti interessanti E quindi vi auguro una buona visione Anche perché una roba del genere non avrebbe senso Quindi è bella Te lo metto dove vuoi Mi auguro Ah ok Ce l'abbiamo qui in alto Ultimo piano Prima finestra Ok Io ho visto Io ho visto Io ho visto No 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 Vesce tu Vesce? Vesce? Pango down Come cazzo abbiamo fatto? Tango down sopra la piscina Dove è adesso? Dove è? Dove è? Occhio che tirano qua Dove è adesso della squadra? Sono qua dietro con chimico e un po' sono qua sopra Ok Dario qui Hornet Siamo ancora al bullying Chiediamo direzione per spostamento posso? Ah Sì Sì Devo lasciare queste due Dove portarceli dietro Eh Boh cazzo Aprete qua Vediamo Dove ragazzi? Sì Compito? Compito uno Iniziamo a spingere verso la piscina Tutti? Bombola Diretta davanti a noi Sì 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 Cioè sicuro è Bella Sicuro qua mi arrivano Coprami un po' Ecco infatti Non si sapeva Stanno tirando? Sì di brutto Cosa? Non ho capito Penso piano terra comunque Ricco Ricco Tango down Tango 3 Dai Ditto Andiamo in AR E pensiamo piano Bulling Teniamo la posizione però Non perdiamola Se siamo Cioè chi è vivo Rimanga qui Merda regga Siamo di su Siamo di sopra C'è anche il punto di esinerazione Sì Ok siamo a posto E noi intentiamo L'assalto alle piscine Tano dormiti Se muoviamo verso le piscine Passa Ah boh Motiamo E' bruttissimo 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 Non pensavo Due dietro e due davanti Come riga Due dietro e due davanti Qui su Tenete la apertura esattamente dall'ingresso est Di testo si è messo verso le piscine Tenete la apertura E' bruttissimo 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 Ascolta ma Abbiamo un medico qui in mezzo Un medico? Un medico dove sei? Ma possiamo tornare e durare? Allora Non andiamo a dare Non andiamo a perdere Ma entriamo adesso Sì sì Qualcuno mi tenga le scale ragazzi No, no, no Ma choc'è la scuola Z mutui Poi indagare altro diente C'è? C'è? Alla Passo Fai entrare al tangente, smut Marco Daj Baj Kopie 6 brutta qua bisogna di uno uno con me 3, 2, 1 buono, buono, buono red, 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 red red, 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 red red si guarda la bomba preso c'è il caso attenzione alla squadra ma siamo in due primo piano piscina entrati da scala di servizio passi tango down ragazzi chi dovete farci è con una R decide il medico adesso e quindi da su da piano piano si riesce a vedere e quindi da su da piano piano e da sopra all'area che c'è di là mi sembra che è come a me non c'è non lo so perchè è un giusto sedo ma penso io buonasera può venire con noi lei avete bombole? certo abbiamo bombole io ne ho due solo io capo qualche due no ne abbiamo altre ne abbiamo cinze via caposquadra qua io vado con i caposquadra hold 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 è qui caposquadra è qui caposquadra è lì ne abbiamo tipo sette otto da far verificare ci sono due team noi con le bombole caposquadra è lì caposquadra è lì è lì dentro il team guardate abbiamo un altro punto qua dentro chi ha le bombole gli altri scuadri vado a prendere il volo bombole qui fate con calmo le bombole coprite ragazzi le bombole le bombole qua attenti attenti al nostro impianto è pericoloso via rossa buona una bene vai metti sull'altra lasciala su no 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 una alla volta se va su la prima devi lasciarla su andiamo alla seconda dobbiamo stare qua ok due abbiamo due bombole qua dammi le mani a mano che le portano periciamo sull'izzano si sono feroci in chive sono feroci in chive dobbiamo andare via confermi che ci manca una bombola rossa e ne abbiamo altre ne abbiamo altre bombole e no cambiamo ancora di bombole ne abbiamo? si stiamo sparando da qui stavendo il corso che cazzo è qui guarda un'altra mac 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 allora però sta lì che ti corro dietro sei colpito? si ho la cosa dietro ok non riesco a prenderlo ok ok ragazzi tira fuori la venda contatti di là tira fuori la venda provo a coprire me ho detto pronto si vai scarico scarico adesso il chimico è in mezzo al bordello degli altri tra le due fazioni eh si perché era lo tenevano dentro lì al bullying solo che lui se l'è svinata e sicuramente è andato qui guarda guarda uno col piccino di una barricata in fondo tango miau esu esu su blu su blu la fascia cioè sei l'ultima è l'ultima è qua fai te ciò tranquillo mi rossi attenzione com'è? com'è? è calda ma dov'è la gente? è il mio compagno che sta sparando a redda da un metro che cazzo è? davanti 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 fondo a corridoio viena terra è una merda qua eh fa cagarissimo credo no ora è tutto da maglia radio ho dei contatti blu nel corridoio a sinistra delle piscine ho bisogno di supporto qua su ah ok adesso mi forci non hai fatto qualche male il supporto che uno ti stava pushando mi era lì sull'acqua gli hanno tirato da lato tu 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 preso fida se basta chiedere esatto un attimo potrebbero essere rinati anche loro infatti c'è uno lì e allora chiedi supporto ah qua si esce forse un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo ok si e non si arriva un cazzo non si mi meto non si faccio faccio non si non si non si non si non si non si non so che io devo guardare tutto il piano poco dopo questa scena la squadra zalla è riuscita a portare tutte le bombole al laboratorio verificarle e trovare le tre bombole che gli hanno fatto vincere la partita sentirti veramente tanto è stata una giocata prolungata veramente molto fluida e ringrazio ancora tutti i partecipanti per la splendida giornata che abbiamo passato in compagnia ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo gameplay ciao